ben trovati e ben trovato a Marcello Foa giornalista saggista è stato presidente Rai dal duemiladiciotto al duemilaventuno ed è conduttore della trasmissione radiofonica giù la maschera su Rai Radio Uno una trasmissione di grande successo che continua ad avere enorme successo anzitutto grazie per la disponibilità ben trovato grazie un piacere essere con te anche oggi grazie allora noi eh con te vogliamo parlare oggi del recente confronto che si è tenuto tra Joe Biden e Donald Trump questo è stato il primo confronto televisivo eh si è svolto negli studi della eh CNN e ehm è stato definito da molti deludente cerchiamo di capire anzitutto perché questo abbiamo visto un Joe Biden diciamo abbastanza in difficoltà in certi momenti eh era già capitato in altre occasioni diciamo di vedere eh di vederlo un po' in difficoltà però in questo caso in un confronto pubblico di questo tipo a pochi mesi eh dal voto perché ricordiamo che eh il voto si terrà nel novembre al cinque novembre del duemilaventiquattro quindi il tempo stringe e queste difficoltà evidenti dell'attuale presidente candidato alla Casa Bianca non possono sicuramente essere ignorate e probabilmente anche i democratici ne hanno preso atto. Che cos'è accaduto? Beh è accaduto quel che gli osservatori più equilibrati avevano visto da tempo e che la stampa mainstream in America e anche in Europa ha cercato di negare cioè è ovvio che da almeno un paio d'anni il presidente Joe Biden ha crescenti problemi cognitivi quali siano esattamente non si sa però eh è un punto molto importante perché eh abbiamo visto tante volte stringere le mani ai fantasmi eh apparire spaisato durante i vertici internazionali poggiare la testa sulla fronte del Papa insomma tanti episodi davvero eh delicati eh imbarazzanti negati con forza dalla stampa. Quello che è successo ieri è che eh i vertici democratici secondo me auspicavano eh ovvero che è parso a tutta l'America che il eh presidente attuale non è in grado di reggere un altro mandato eh perché dico in realtà lo auspicava. Questa è una mia impressione perché da quel che io seguo l'America da tanti anni da quel che ho eh recepito dai colloqui che faccio con eh giornalisti, colleghi, amici americani, in realtà eh il Presidente Democratico auspicava ardentemente che Joe Biden non si ricandidasse per ovvi limiti di età, no? Mentre Joe Biden eh non ne vuole sentire di di ritirarsi proprio ha negato con evidenza con forza la eh la realtà e e dunque ci voleva un fatto eclatante che rimettesse agli occhi di tutti eh la necessità di eh considerare un cambio del cavallo fondamentalmente. Eh allora infatti è strano che il dibattito tra Biden e Trump sia avvenuto adesso prima delle convention. Di solito avvengono negli ultimi due mesi di campagna elettorale dopo le convention e quel che è accaduto ieri dunque permette all'establishment democratico che era autenticamente scioccato perché veramente ieri eh l'altro ieri eh Biden ha fatto una una performance sconcertante cioè biascicava non riusciva a concludere le frasi non tutte in certi passaggi era più lucido rispetto ad altri però la differenza rispetto a un Trump che peraltro non è che sia più neanche lui il Trump di una volta è stata eclatante e dunque adesso si aprono nuovi scenari e secondo me è molto possibile molto probabile vedremo comunque che a questo punto Biden sia costretto veramente a mollare il colpo e e dunque non è detto che la sfida del quattro del cinque novembre sia tra Biden e Trump come hanno scritto tutti fino ad oggi. E chi potrebbe essere il possibile sostituto diciamo? Allora da quel che mi risulta il cavallo vincente reputato vincente è paradossalmente Michelle Obama nel senso che eh già da a me la prima volta che me l'hanno detto sarà stato sei sette mesi fa per cui un tema che non non era neanche all'ordine del giorno in realtà reputano avranno fatto dei sondaggi che Michelle Obama eh è capace sarebbe capace di coinvogliare verso il PD democratico quell'elettorato centrista che probabilmente oggi non vota oppure magari è tentato di votare per per Trump eh però con questione di opportunità lei un conto del marito che peraltro non è che è stato un grandissimo presidente americano ha commesso tanti errori eh un conto è la moglie e vuol dire una democrazia che diceva ah noi non abbiamo contrariamente agli europei imperi dinastici eh nobiliari per cui si passa il potere per sangue beh insomma noi abbiamo avuto il presidente George Bush eh padre e figlio abbiamo Clinton che ha cercato di eh far eleggere la moglie e ora sarebbe Michelle Obama che tenta di andare eh anche lei alla Casa Bianca eh ha senso tutto questo e poi l'America è davvero pronta ad avere un presidente americano primo presidente donna di colore perché chiaramente eh insomma ci sono tante variabili per cui e lei stessa pare che non sia del tutto convinta probabilmente è spaventata da questa prospettiva se non lei c'è chi dice Kamala Harris che però è un disastro assoluto come vicepresidente è stato un disastro vincerebbe Trump a mani basse oppure si dice il governatore della California eh o altri leader di qualche stato di certo dicono dobbiamo giocarcela meglio e anche eh rompere gli schemi cioè se tu hai un nuovo candidato porti l'attenzione sul nuovo candidato e la toglie a Trump per cui insomma ci sono tante indicazioni per cui ehm è probabile possibile che il nuovo candidato venga scelto nelle prossime settimane e che questo possa cambiare l'inerza di una campagna elettorale che se resta così è ovvio che Trump non vince stravince alle elezioni di di novembre. Ecco per quanto riguarda Donald Trump eh c'è chi ha detto e sostenuto che anche lui non sia stato particolarmente brillante come nelle scorse campagne elettorali come ne esce lui da questo dibattito da questo primo eh scontro incontro televisivo. Sì è un'impressione che ho avuto anch'io nel senso che è il Trump di sempre con dieci quasi dieci anni in più cioè quando lui ha fatto la prima campagna elettorale era il duemila e sedici eh a sorpreso era un uomo che ha dieci anni in meno per cui aveva settant'anni no oggi ne ha settantotto eh brillante guascone provocatorio sapeva eh oggi è lo stesso Trump invecchiato e anche quando faceva le facciacce quando Biden eh andava fuori rotta diciamo così non aveva lo stesso effetto di una volta per cui è lo stesso Trump invecchiato di otto anni per cui anche lui sebbene sia lucido cioè non ha chiaramente problemi cognitivi come a Biden eh non ha innovato il suo modo di comunicare per cui eh è un po' una patina di déjà vu no? Eh che che hanno avuto molti molti ascoltatori io per prima naturalmente. Probabilmente è anche un po' appesantito eh anche a causa di questi numerosi insomma queste questioni giudiziarie eh che ha sulle sulle spalle anche questo influisce? Allora certo che gli erano fatte di ogni cioè oggettivamente e questa condanna per questa sua relazione con la porno star che lui avrebbe pagato eh se la paragoniamo alla vicenda di eh di Clinton con Monica Lewinsky come sempre due pesi due misure cioè eh chiaramente Trump è stato osteggiato in tutti i modi dal deep state americano e certo queste sono battaglie che lograno ma io penso che sia soprattutto una questione di età cioè eh a settantotto anni non sei comunque più né un cinquantenne né un sessantenne né un settantenne e per cui sebbene sia innegabilmente un grande uomo di comunicazione perché Trump è un capace di comunicare spaccare eccetera non riesce a a innovare e dunque non dico che pagherà un prezzo per questo però non è più la novità che fa dire wow caspita mi ha colpito guarda che nelle campagne elettorali americane one to one lunghe eh questa questa capacità è molto importante. Insomma è una campagna elettorale con eh molte impognite diciamo così e eh soprattutto in un momento molto particolare molto delicato con i conflitti in corso eh quindi staremo a vedere cosa cosa accadrà. Eh prima di lasciarci cambiamo un attimo argomento perché volevo chiederti abbiamo sentito della liberazione di Julian Assange ovviamente ne abbiamo gioito tutti è una liberazione diciamo tra virgolette perché per tornare a casa con la sua famiglia ha dovuto firmare un accordo in cui si è dichiarato colpevole di uno dei reati eh a suo carico e quindi mh la vicenda diciamo non è totalmente conclusa però arriva in un momento appunto a pochi mesi dalle elezioni statunitensi. Questo eh ha un significato particolare accade in questo momento proprio per perché c'è un collegamento con le elezioni perché gli Stati Uniti hanno proprio deciso in questo momento di cercare di mettere eh la parola fine a una vicenda che dura tantissimi anni. Eh guarda si è realizzato lo scenario che eh proprio con te analizzavamo eh considerato un'intervista di un mese e mezzo fa circa eh cioè io ho detto ho ipotizzato che la liberazione di Assange poteva portare acqua al mulino dei democratici e così probabilmente sarà. Ha poi è arrivato subito la variabile Biden che ha messo in secondo piano la questione Assange però diciamo così eh è una io ho gioito quando ho sentito l'elevazione di Assange io sono sempre stato un sostenitore della libertà di stampa. Assange è stato molto coraggioso, ha permesso scoop verificati scomodi, molto scomodi, però questo fa parte del giornalismo. Cos'è accaduto? È accaduto che lui l'America non poteva graziarlo. Allora l'accordo che hanno fatto è che lui si dichiarava colpevole di aver violato dei segreti di Stato con una pena che è stata pari al carcere tra virgolette preventivo di sei anni che lui ha subito in Gran Bretagna. hanno fatto questa udienza in un'isoletta nell'oceano, tutti e lui hanno rispettato i patti e lui adesso è libero in Australia. È una vittoria a metà perché? Perché da un lato si è evitato l'obrobrio di un giornalista che viene condannato all'ergastolo per aver fatto il suo mestiere. Cioè in democrazia è una cosa inimmaginabile, è una cosa di questo genere. A metà perché comunque lo hanno costretto ad ammettere un reato che è stata la condizione per evitare il carcere a vita è perché comunque il messaggio è stato mandato chiaro e forte. Guai al prossimo che si azzarda a fare altrettanto perché comunque c'è stata una missione di colpa e per cui io sono contento che Assange sia libero. Forse un giorno avrò anche il piacere di incontrarlo, non lo so. Devo dire che con Peter Gomez abbiamo evocato più volte la sua storia in trasmissione e sono stato piuttosto sconcertato dai commenti di gran parte della stampa italiana che invece diceva però questo era un bandito fondamentalmente e questo dà un po' il peso, la misura di come la stampa oggi in generale sia molto appiattita sul mainstream non solo culturale ma anche politico. Qui ecco è una vicenda che ha questi due aspetti, bene ma non benissimo. Non benissimo perché probabilmente sul piano della libertà di stampa e quindi di conseguenza anche del diritto all' informazione non cambia molto. Il giornalismo continua a poter essere potenzialmente imbavagliato dal sistema o da interessi molto più grossi. È così? Esatto, vedi c'è una differenza molto netta rispetto a quanto accade con i famosi Pentagon Papers. Tra l'altro vicenda narrata molto bene nel film The Post, quando all'epoca di fatto il Washington Post pubblicò i documenti segreti, top secret, che svelavano come molte verità sulla guerra nel Vietnam erano state di fatto molto manipolate per l'inconfianza dell'opinione pubblica svelando diversi segreti di Stato. Ci fu una sentenza di fronte a un giudice il quale stancì il diritto della stampa americana a pubblicare anche i documenti top secret e fu una grande vittoria per la libertà di stampa perché concretamente fu dato torto al governo americano e dunque la libertà di stampa fu sancita anche sulla pubblicazione di documenti top secret. Oggi invece è passato il concetto opposto. Oggi un giornalista è stato costretto a richiarsi colpevole di spionaggio, se non ricordo male, nel compromesso giuridico che hanno trovato e comunque il messaggio molto forte è che chi osa pubblicare documenti top secret rischia di finire come Giuliana Saggio dunque in una tormenta giudiziaria e durata 15 anni prima con le accuse false di stupro, poi con l'incarcerazione preventiva durata sei anni in un carcere britannico, con la spazio di Damoclo di una condanna a 150 anni di caccia, cioè l'ergastolo. E alla fine poi questo compromesso qui il messaggio è molto chiaro, chi osa rischia tantissimo colpirne uno per educarne cento e questo è un punto sul quale una volta sedimentate l'emozione del momento bisognerà riflettere perché io sono un convinto assertore della democrazia, della libertà di stampa a condizione che non sia retorica ma che sia effettiva e questo è veramente il punto essenziale perché le nostre democrazie di deroga in deroga, l'abbiamo visto tante volte anche in passato, pian piano stanno perdendo la loro virtù e questo dovrebbe preoccuparci tutti. Assolutamente d'accordo, vigileremo anche su tutta questa situazione e a questo punto staremo a vedere cosa accadrà in questa campagna elettorale che si preannuncia anche abbastanza avvincente a questo punto, vedremo cosa accadrà e se Biden sarà veramente sostituito. Io ringrazio Marcello Foa per la sua disponibilità come sempre gentilissimo e chiarissimo, ci ha chiarito molte questioni interessanti e quindi grazie mille e ci rivediamo, ci risentiamo presto. Grazie, grazie a te, buona giornata, buon ascolto a tutti e a tutti voi.